Da lui dipendono 800 uomini di NASA e 8.000 di società private. Rocco Petroni, la tigre di Cape Kennedy. Un ingegnere che avrebbe scritto la storia e portato l'umanità dove nessuno era mai stato prima. Il figlio di migranti italiani che divenne direttore delle operazioni di lancio delle missioni Apollo. Una vicenda straordinaria al centro di luna italiana di Marco Spagnoli, premiato come miglior documentario al più importante festival russo sullo spazio, lo Tsiolkovsky Space Fest. Un punto di vista diverso su una grande epopea. Rispetto ai tanti documentari realizzati sulla guerra fredda, l'una italiana si concentra sulla figura di Rocco Petroni, il figlio di immigrati della Basilicata, che diventa protagonista di una storia clamorosa. Una figura che altrimenti poteva essere marginale nella storia americana che invece una serie di circostanze lo portano a diventarne protagonista e anche in qualche maniera regista perché è lui che fisicamente porta gli uomini sulla luna. Prodotto dall'Istituto Luce Cine Città in collaborazione con History Channel e con il patrocinio di Asi e Nasa, l'una italiana ripercorre la vicenda di Petrone con rare immagini d'epoca provenienti anche dalle teche Rai. Una storia di impegno, dedizione e determinazione che rimane un esempio. Penso che questa sia la lezione che dobbiamo trarre anche per noi. Qualsiasi sia il nostro lavoro, quando questa quarantena, quando questo lockdown finirà, anche noi dovremmo essere pronti a fare il nostro dovere proprio come fece Rocco Petrone.